C'era e non c'era una volta un elefante che un giorno fu portato in un salone ampio e buio. Nell'oscurità non si capiva di cosa si trattasse, poiché le forme del pachiderma non si vedevano chiaramente occhio nudo. Quattro persone entrarono nella stanza, erano quattro eruditi, invietati dal padrone di casa. L'uomo conosceva bene la reputazione di tutti e quattro, sapeva che erano grandi studiosi. Per questo aveva deciso di sottoporne una prova. «Avrebbero scoperto che si trattava di un elefante nonostante l'oscurità? Vediamo se sono veramente così saggi come dicono, o se la conoscenza che si attribuiscono è solo immaginaria», pensava fra sé e sé l'uomo. Nel salone era buio pesto e gli studiosi riuscivano a malapena camminare. Uno di loro si avvicinò all'elefante toccandogli un orecchio e subito annunciò le sue conclusioni. «Ma certo, amici, si tratta di un ventai enorme», disse. Un altro si fece avanti un po' perché voleva contestare un collega, un po' perché l'ipotesi gli sembrava affrettata. Ma anche lui esclamò subito di aver compreso la natura dell'oggetto e, dopo aver toccato una zampa dell'elefante, constatandone la durezza, dichiarò che si trattava di una colonna. Poi fu la volta di un terzo erudito che, nel buio del salvone, toccò il dorso dell'elefante. Disse, «Ci sono, vi sbagliate entrambi, cari colleghi. Non è né un ventaglio né una colonna. È invece un trono di incredibile grandezza». Anche lui era convinto di aver indovinato e negava le idee degli altri. L'ultimo del gruppo, che era anche il più saggio, si avvicinò all'elefante e ne accarezzò il corpo ruvido e imponente. «Voi dice che un ventaglio, una colonna o un trono? Io stavo per dire che è un...» «Ma mi trattengo, perché a questo punto non ci capisco più nulla». Il padrone di casa convocò gli eruditi e disse il vuro, «Non siete riusciti a scoprire che era un elefante, ma mi avete ugualmente impartito una preziosa lezione, perché la verità può avere molte forme e comprenderla non è una cosa semplice».